Buongiorno e bentrovati al nostro consueto appuntamento settimanale con notizie geopolitiche da Valentino De Bernardis. Dopo tanti collegamenti e riflessioni su realtà geografiche lontane, oggi torniamo a parlare di Europa. Più nello specifico affrontiamo quello che succede al governo di Madrid. La Spagna, un paese molto simile per storia e tradizione d'Italia, che si trova ad attraversare una forte tubolenza politica a seguito delle ultime elezioni generali. Per farlo nel migliore dei modi saremo supportati da Lorenzo Nicolao, analista politico della penisola eberica per notiziegeopolitiche.net. Iniziamo quindi dai saluti. Buongiorno Lorenzo. Buonasera. Buongiorno, buongiorno a te. Come va? Tutto bene? Tutto a posto, tutto bene. Felici di questo collegamento. Dicevo che appunto noi ci avvarremo delle tue conoscenze per scoprire quello che sta succedendo in Spagna. Sì, senza dubbio. Diciamo che al momento mi trovo pure di fresco ritorno, quindi in cui ho potuto, come dire, vivere anche il contesto politico della penisola eberica. E senza dubbio mi sono combinato anche con un periodo molto dinamico e fervido dal punto di vista politico. Prima di addentrarci nell'analisi delle notizie degli ultimi giorni, aiutaci a fare un quadro storico delle ultime elezioni. Cosa è successo? Che ha avuto un'importanza storica? Chi sono stati i vincitori e i vinti? Sì, assolutamente, perché poi ci troviamo in questi giorni proprio che sembra quasi chiudersi il cerchio con la recente esperienza elettorale, perché la Spagna è andata al voto per le elezioni legislative, quindi proprio per rinnovare anche la Camera parlamentare, quindi il Parlamento e tutto il congresso di Madrid, al fine di poi dare un po' una svolta alla politica di quattro anni di, sì, riforme, ma anche recessione economica sotto un po' l'egida del Partito Popolar di Mariano Racoi. Queste elezioni erano previste come un punto di svolta. Il 20 dicembre scorso si è andati a votare nell'arco di un solo giorno e gli spagnoli alla fine si sono suddivisi quasi in maniera strettamente ideologica ed anche equilibrata su quattro partiti in realtà. Cioè a dispetto di una Spagna che era stata sempre governata dal bipolarismo del Partito Socialista e del Partito Popolare, a questo punto praticamente ci troviamo un quadro più complesso dove hanno fatto il loro ingresso a gamba tesa, si direbbe così, di sia un partito strettamente populista come lo è Podemos, che praticamente è nato dal movimento degli indignados, che si è sviluppato, ha trovato le proprie radici, proprio a seguito della recessione economica che ha investito, come l'Italia, anche la Spagna, nell'arco dell'area mediterranea, anche poi c'è stato l'ingresso di Ciudadanos, che è un partito invece di centrodestra, di stampo liberale, che ha ottenuto il 13,9%, quindi una totalità di 40 seggi, mentre andando a salire Podemos ne ha ottenuti 69, quindi un numero considerevole per un partito che è entrato nell'arco di queste elezioni per la prima volta a far parte del contesto politico attivamente a livello nazionale, poi che naturalmente hanno seguito i due partiti di tradizione, quindi il Partito Socialista, il PSOE con il 22,1% e 91 seggi e ne ha persi quindi 20 a seguito delle elezioni invece del 2011, mentre ha vinto, ma senza ottenere la maggioranza assoluta, il Partito Popolare con il 28,7%, 122 seggi, ben 64 in meno. Infatti nell'arco della politica spagnola c'è da dire che il Partito Popolare al momento è un po' mal visto, vogliasi per gli scandali fiscali, vogliasi per una politica che a detta di molti andrebbe rinnovata, che ha un po' agevolato quelle che sono le posizioni più populiste, e comunque partiti che vogliono rinnovare naturalmente e completamente soprattutto quella che è la politica spagnola. Ovviamente se la cosa più rilevante di queste elezioni è che senza nessuna modifica a livello di legge elettorale sia passati dal bipartitismo di fatto, alla fine pur con la presenza di tanti piccoli partiti che rappresentano i regionalismi e i partiti autonomi, poi ha un quadripolarismo, verrebbe da dire, con quattro principali partiti che però sono caratterizzati da posizioni ideologiche completamente differenti. Due di stampo più tradizionale e storico come il Partito Popolare e il Partito Socialista e due di stampo più rivoluzionario come Podemos e Ciudadanos, pur essendo due di centrodestra e due di centrosinistra, quindi un quadro veramente, verrebbe da dire, grottescamente simmetrico. Hai parlato di due movimenti politici come Ciudadanos e Podemos che in un certo senso, come appunto tu dicevi, hanno rotto le regole del gioco e di quell'alternanza a cui accennato tra socialisti e popolari che dal ritorno alla democrazia del paese si sono alternati alla guida della Spagna. Vota a memoria, non mi sembra di ricordare, da Gonzales, poi c'è stato da SNA, da Zapatero, da Coi. Sì, assolutamente. Praticamente è un punto di svolta rispetto a quella che è la storia democratica della Spagna che ha avuto inizio nel 1985 con l'inizio della transizione dopo la dittatura di Francisco Franco. Podemos e Ciudadanos sono due nuove formazioni politiche che sono nate proprio dalla voglia di cambiamento rispetto ai tradizionalismi politici. Sono entrambi un po' partiti anticasta che vogliono far valere le nuove necessità del paese in questo momento, un po' per la crisi economica, un po' per le differenti crisi sociali. Podemos possiamo dire che sia anche in un certo senso fautore degli indipendentismi, quindi sarebbe l'unico di questi quattro partiti disposto ad accettare un referendum per la Catalogna, per i paesi baschi o anche per le altre realtà regionali, per l'indipendentismo vero e proprio, quindi diciamo delle posizioni completamente innovative. Se ci vogliamo soffermare un po' anche su quelli che sono i leader politici, naturalmente i quattro volti di questi quattro partiti, da una parte abbiamo la tradizione di Mariano Racoi, che è un po' l'unico politico di vecchia generazione, anche anagraficamente parlando, perché gli altri tre, avendo meno di 50 anni, sono tre figure quasi completamente nuove nel quadro politico, perché Pedro Sanchez ha vinto di recente anche quelle che sono state le elezioni interne al Partito Socialista, quindi nell'arco di queste elezioni è stato il principale candidato per il PSOE, e poi naturalmente entrambi i 37 anni che sono coetanei, Pablo Iglesias e Albert Rivera, che sono rispettivamente i leader di Podemos e di Ciudadanos. Giovani che entrano nella politica anche spagnola, sono in realtà credibili alla guida del paese? Loro su cosa hanno puntato per accogliere il consenso? È solo bastato puntare sull'indignazione popolare oppure c'è stata anche in Spagna una svolta generazionale, cioè con i giovani che chiedevano l'accesso alle istituzioni spagnole? Sicuramente possiamo dire che negli anni recenti ha un po' la crisi economica, un po' la difficoltà dei giovani di trovare lavoro, nuove fasce di popolazione risentite nei confronti della vecchia politica si sono riconosciute in queste nuove formazioni politiche. Dall'altra è chiaro che anche se sia modo di seguire la cronaca recente della politica in Spagna, si delinea un quadro un po' non ai noi molto diverso da quell'italiano dove un giorno e anche l'altro emergono continuamente scandali di chi è stato indagato per una determinata frode, chi ha sottratto denaro pubblico, e questo purtroppo è questa cronaca legata soprattutto alle vecchie formazioni politiche. Certo, vecchie formazioni politiche che se vogliamo andare un po' avanti con le lunghe settimane che si sono susseguita alla ricerca di una formazione di governo credibile, alla fine sembrano dimostrarsi un po' il male minore, perché forse un brutto governo è ancora più credibile di un non governo, perché poi se magari avremo modo di parlarne nel proseguimento della nostra trasmissione, naturalmente ci sono stati tanti avvicendamenti, ma non si è riusciti a trovare un accordo per un governo di cambiamento rispetto a quello attuale del Partito Popolare. Facciamolo subito allora, quali sono stati questi avvicendamenti? Andiamo direttamente un po' a raccontare un po' quella che è stata la cronistoria di queste recenti settimane, perché dopo il 20 dicembre, con le elezioni che hanno delineato un po' questi numeri veramente diabolici, perché sarebbe veramente difficile riuscire a inventare un po' delle percentuali più complesse e complicate per formare un governo rispetto a queste, purtroppo chiaramente questi quattro principali partiti, ragionando secondo i numeri, avrebbero bisogno almeno di un governo che ne metta d'accordo 3 su 4. In realtà molto difficile perché il Partito Popolare a livello numerico ha vinto, ma non è riconosciuto né accettato da nessuno degli altri tre. Soprattutto la leadership di Racoy è mal vista anche all'interno del Partito Popolare, vogliasi un po' per i recenti scandali o situazioni di poca trasparenza anche all'interno dello stesso partito. Quindi non ottenendo da solo il Partito Popolare la maggioranza assoluta, sarebbe costretto ad una coalizione. Coalizione con il Partito Socialista, che sarebbe potuta essere una possibile ipotesi, in realtà non si può realizzare perché lo stesso Sanchez è stato il leader del Partito Socialista, è stato molto duro nei confronti di Racoy e anche nella stessa campagna elettorale. Quindi naturalmente averne dette di tutti i colori durante la campagna elettorale e poi formare un governo proprio con gli acerremi nemici, definiamoli così, naturalmente non sarebbe stato credibile. Allo stesso modo i punti di vista di Ciudadanos e Podemos sono molto diversi, molto diversi perché sebbene Racoy non abbia avuto i numeri per formare in un primo momento il governo, dal momento che Re Felipe VI ha lasciato l'incarico a Pedro Sanchez nel formarlo, Sanchez ha fatto nell'arco di questi ultimi tre mesi tutti gli sforzi possibili e inimmaginabili per trovare i numeri. Cosa che però non è riuscita, sembrava vicino alla formazione del governo con un patto al fianco di Albert Rivera, che è il leader di Ciudadanos, che si sono trovati d'accordo su diversi punti, ma poi tanti partiti, piccoli partiti di sinistra come Schierda Unita o i partiti regionalisti che chiedevano a gran voce la possibilità di ottenere un referendum per l'indipendenza, naturalmente non erano posizioni troppo conciliabili con quella che è la posizione naturalmente di stampo più tradizionalista o comunque di unità nazionale che ricopre comunque il partito socialista. A maggior ragione, difficoltà che è emersa e di cui anche tutti i quotidiani e le testate spagnole oggi hanno accusato la stessa formazione politica Podemos, è stata proprio l'arroccamento ideologico di Pablo Iglesias, leader di Podemos, nel mantenere fermi i suoi punti, le sue basi del programma elettorale, che la possibilità di un nuovo approccio economico all'interno del Paese con una forte discontinuità con quello che è stato fatto finora, naturalmente avrebbe destabilizzato un po' i mercati, che ancora non nutrono fiducia nelle nuove formazioni politiche, e così Pedro Sanchez non è proprio riuscito a conciliare il leader di Podemos con quello di Ciudadanos. Ovvio che la posizione, come dire, la vocazione più indipendentista, un po' per la quale simpatizza Podemos, era inaccettabile per il Partito Socialista. Quindi naturalmente possiamo vedere che sia un quadro abbastanza complesso e dove poi l'annuncio di nuove elezioni da parte del Re per il prossimo 26 giugno non sappiamo bene a quale possibile scenario dia luce, perché poi, essendosi arroccati tutte sulle proprie posizioni, la campagna elettorale in realtà è stata e è rimasta perennemente aperta. È molto probabile allora che si torni alle urne, anzi, ufficiale possiamo ben dirlo. Sì, questa mattina l'ho accennato il Re, infatti proprio come dicevo si è chiuso un po' il quadro, il circolo di questa vicenda post-elettorale dal 20 dicembre a oggi. Dallo allora quello che tu ci hai raccontato, di un quadro molto complesso in cui tutti si sono arroccati nelle proprie posizioni, quasi in una situazione di pronti bruciate alle spalle, la decisione di tornare alle urne può essere una soluzione alla risoluzione di tutti questi problemi? Perché mi chiedo, se le urne dovessero ripetere lo stesso risultato che abbiamo avuto a dicembre, cosa può succedere? Questa è la famosa domanda da un milione di dollari o di euro, visto che siamo in Spagna, ma la situazione è complessa proprio perché il quadro non è affatto chiaro. Le nuove elezioni sono state giudicate da politologi, economisti, esperti e stessi giornalisti, è un po' il fallimento della politica spagnola da questo punto di vista, perché i diversi colori politici, le diverse forze, non sono riuscite proprio a mettersi d'accordo, sebbene la Spagna sia un paese che in questo momento ha veramente bisogno di un coordinamento di largo intese, verrebbe dire quasi di un bisogno di un governo, di un'ità nazionale, come vediamo qua nell'arco dell'Europa, ce ne sono tanti. Naturalmente da una parte può essere meno credibile la Spagna a livello internazionale, proprio perché è priva di un governo, su questo battono molto le stesse realtà regionali autonome, autonomiste, perché chiaramente si scagliano contro il governo centrale, vedete la Spagna non riesce a formare un governo, è il tempo per la secessione, questo è un po' quello che si racconta a Barcellona per esempio, dove questi spiriti sono molto vivaci. Allo stesso modo però è chiaro che governi un po' improvvisati non saprebbero garantire allo stesso modo credibilità, perché poi la soluzione quella che sarebbe parsa più naturale, un accordo tra Partito Popolare e Partito Socialista, non avrebbe fatto altro che creare una maggior discrepanza tra quelli che sono i populismi e poi la vecchia politica, perché allora sembrerebbe veramente proprio un attaccamento alle poltrone, se vogliamo utilizzare termini un po' più vicini alla nostra realtà italiana. Non ti vorrei costringere a fare cose che non vuoi fare, ma conoscendo tu il paese e quindi avendo tu la conoscenza del polso, di quello che è il sentimento della popolazione, cosa prevedi che possa succedere dopo il 26 giugno? A titolo personale, quindi non... Sì, 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 assolutamente. Opinione personale, beh, è chiaro che poi saranno gli spagnoli a decidere, ma sicuramente fossi io un cittadino spagnolo, mi troverai nella scelta o di riconfermare il mio voto espresso, proprio secondo voto di appartenenza e convinzione ideologica, oppure, come dire, un voto cosiddetto utile verso quella un po' che era la vecchia politica, perché alla fine, sebbene piena dei suoi problemi, la politica e la linea economica seguita da Mariano Racoi fino a questo momento è stata un po' di crescita rispetto a quella che era naturalmente la crisi economica degli scorsi anni. Ovvio che poi ci si mettono, come è stato qualche giorno fa, anche le dichiarazioni del nuovo DEF, documento di economia e finanza, per quanto riguarda la politica spagnola, spagnola che parlerà nel... farà riferimento al prossimo anno, è stato presentato proprio da Luis de Guindos, che è l'attuale ministro dell'economia in funzione, purtroppo ha sollevato ulteriori polemiche, perché sarà ben del 3,6% l'aumento del deficit, poi l'aumento della disoccupazione, quindi bene o male un quadro sì in crescita, ma forse dopo i primi entusiasmi a seguito della crisi, un po' di ripresa, adesso sembra di nuovo fossilizzarsi, vogliasi anche per quella che è stata la crisi politica, perché naturalmente tutto ciò si lega all'economia, non dando affatto fiducia a quelli che sono i mercati internazionali, quindi più questa situazione di stallo va a prolungarsi, va a prorogarsi e poi naturalmente ci saranno delle conseguenze negative, anche in ambito economico. Voglio inclinciarmi a questo tuo ultimo punto, perché naturalmente è chiaro che questo periodo di interregno del non governo ha ritardato il percorso di riforme strutturali necessarie alla Spagna per rilanciare la propria economia, come anche tu dicevi. Dato ciò, quali saranno le sfide principali del nuovo esecutivo? Quali saranno i temi sul tavolo che dovrà affrontare il prima possibile? Allora, la situazione spagnola è per ampi tratti molto simile a quella italiana, nel senso che c'è un deficit pubblico elevatissimo, che va limitato, quindi limitando quella che è la spesa pubblica, e purtroppo i tagli saranno sempre gli stessi, cioè i tagli doverosi da fare saranno alle pensioni, alla sanità, a quello che è tutto l'ambito educativo, quindi un po' al cosiddetto welfare. Ovvio che poi tanti in Spagna pensano che la riforma più strutturale, più giusta da seguire, sia quella che in Italia è avvenuta sotto il governo di Mario Monti, quindi ovviamente c'è un punto di vista molto a tratti diverso, o comunque a volte verrebbe da dire inconsciente, perché sì, potrebbe risanare ampiamente i conti della Spagna, però con un grande costo sociale, come si è visto d'altronde in Italia. Quindi, bene o male, queste due situazioni affini, cioè Italia e Spagna, nell'ambito delle riforme strutturali, devono fare ancora grandi passi. È ovvio che forse prima di dire riforme strutturali, e bisognerebbe un po' specificare verso che tipo di riforme, qual è il nuovo ideale di paese che si vorrebbe realizzare. Ovvio che al momento ci sono anche tante crisi esterne, perché la Spagna, allo stesso modo dell'Italia, sta vivendo una crisi a livello di frontiera, perché ci sono tantissimi sbarchi allo stesso modo, tantissimi profughi che necessitano o asilo politico o comunque accoglienza. Da questo punto di vista, un aspetto che si può mettere in risalto è che non ci siano nell'ambito della politica spagnola in questo momento formazioni politiche, come dire, di carattere xenofobo o comunque chiuse rispetto alle frontiere, cosa che invece sta un po' dilagando in tutti gli altri paesi europei a livello proprio comunitario. E questo è un aspetto interessante, perché bene o male il populismo spagnolo, invece, è molto legato a una realtà quasi nazionalista, avrebbe da dire, un po' un orgoglio popolare che vuole un po' rialzare la testa dopo anni di crisi economica, mentre sembra essere molto più accentrato alle proprie questioni e non tanto alle crisi esterne, che bene o male, grazie agli stati, cioè coloro che vorrebbero essere stati, alle regioni autonome, sembra esserci una coerente suddivisione anche dell'accoglienza a livello di quote. Quello che non riesce a realizzarsi a livello europeo sembra la Spagna averlo realizzato comunque, quindi questi sono, come dire, aspetti un po' diversi e anche interessanti da mettere in risalto. Poi, chiaro, le riforme strutturali sono soprattutto per rinnovare un welfare che andando avanti così non può più sostenere se stesso, quindi è chiaro che da questo punto di vista sia molto vicino alla realtà di altri paesi che si affacciano nel Mediterraneo. Non potrebbe darsi che la mancanza di, per fortuna, la mancanza di partiti xenofobi sia anche dovuta al fatto che i spagnoli non sono solo un popolo che attrae immigrazione, ma anche un popolo di giovani che vanno fuori dal paese a cercare fortuna, ad esempio non solamente in Europa, ma anche in Sud America. Quindi loro hanno questa doppia natura di essere migranti e di accogliere i migranti. Ah sì, questo senza dubbio, d'altronde come anche l'Italia nel corso della sua storia è stato un paese di emigrazione prima di essere di immigrazione, però è vero pure che la realtà spagnola è, come dire, abituata a quella che è un po' la realtà dell'immigrazione proprio perché tu hai citato il Sud America, dal Sud America invece ci sono grandissimi flussi di persone che vanno verso la Spagna, un po' si voglia per una condizione europea che comunque può essere migliore di determinati paesi sudamericani, un po' anche per l'affinità di lingua, perché eccetto il Brasile la maggior parte dei paesi sudamericani sono ispanohablanti e naturalmente è chiaro che ci sono delle affinità che hanno portato poi la Spagna di per sé già a essere una realtà multiculturale. adesso potrebbe essere difficile capirlo e seguirlo se non ci si è trovati, ma anche tra un catalano e un madrileno in realtà almeno tra di loro emergono tante differenze, si potrebbe dire quasi un campanilismo sfrenato rispetto alla realtà italiana, come se si vivesse in maniera molto più in fatica, però stando in quel contesto è vero come poi si possano, magari si faccia meno fatica ad accettare anche un rifugiato, un migrante dal momento in cui si viva già in una condizione quasi di multiculturalismo. Alla fine nella Spagna ci sono tantissime realtà culturali, ma sono molto più vivide e anche si voglia per la tradizione vissute rispetto anche a una realtà, tanto per rinnovare il paragone con l'Italia, dove bene o male tante differenze culturali stanno gradualmente venendo meno per un altro approccio un po' culturale, un po' politico, di maggiore unità rispetto alla Spagna che mantiene fortemente le sue autonomie. No, certamente, ma io mi riferivo anche ai flussi di giovani spagnoli che stanno andando ultimamente in Sud America, come per esempio può essere il Cile o anche in Argentina a cercare fortuna, qui ma ti parlo di ingegneri, architetti che sono appunto... Ah sì, questo senza dubbio, poi nell'arco della stessa Unione Europea ci sono tantissimi spagnoli che stanno uscendo un po' dal confine. anche se è vero che questo tipo di approccio è un po' una realtà degli ultimi anni, proprio ultimissimi anni o comunque molto recente, perché la Spagna avendo ottenuto la sua democrazia circa 40 anni dopo rispetto all'Italia, alla fine, come dire, c'è anche una realtà molto forte a livello patriottico, quindi sì, la Spagna si sta prendendo notevolmente negli ultimi anni, sappiamo per esempio che è entrata nell'Unione Europea nel 1986, quindi in tempi molto recenti, però è vero anche che, appunto anche entrando a contatto con gli spagnoli, questa vocazione internazionalistica ancora non c'è, per esempio posso fare riferimento a determinati corsi universitari dove ancora insegnare politica internazionale, cosiddetta politica internazionale, è un riferimento a quelle che sono le realtà indipendentiste della Spagna, non ad altri contesti magari extraeuropei, quindi naturalmente sarebbe un po' una novità al momento che in Spagna si sta, come dire, diffondendo, forse anche su spinta della crisi, per tanti giovani, però ancora anche lo studio delle lingue straniere, che la Spagna lo sta incentivando proprio in tempi più che recenti. Permettimi di fare un attimo un salto indietro a quello che hai detto pochi minuti fa, in particolare quando abbiamo affrontato il tema dei problemi che deve affrontare il nuovo esecutivo. La possibilità che il nuovo esecutivo possa o meno dare vita a politiche di austerity dal punto di vista economico potrebbe giocare a favore delle richieste indipendentiste? Questo, come un po' avevo accennato, potrebbe essere notevolmente naturalmente il discorso principale che purtroppo, ad esempio, tanto per citare qualche nome, la politica di Mariano Racoi del Partito Popolar non è affatto riconosciuta in ambito interno, infatti per determinati anche eventi recenti, le stesse elezioni del 20 dicembre lo hanno punito con 64 seggi in meno a livello elettorale. Però poi c'è pure da dire che all'interno del quadro internazionale il governo di Racoi era, come dire, pienamente inserito in quelle che sono le politiche comunitarie europee, oltre naturalmente essere riuscito a far crescere leggermente il paese attraverso politiche di austerity. Quindi naturalmente è riuscito, come dire, Racoi è riuscito ad accontentare un po' quelle che erano le richieste di Bruxelles e un po' poi le richieste interne, ad esempio, anche se è stato subito accusata come mossa quasi in chiave di campagna elettorale, è stato restituito il 50% di bonus natalizio per i dipendenti pubblici che era stato soppresso nel 2012. Questa è stata una mossa recentissima da parte del governo del Partito Popolare a seguito un po' dell'ultimo decreto di economia documento di economia e finanza che ha visto come dire dei dati negativi di previsione per i prossimi due anni. A questo punto è chiaro che sebbene possa essere accolta positivamente un populismo da parte delle nuove formazioni partitiche e politiche, un partito di cambio in questo momento che magari voglia garantire più welfare, più benessere per gli spagnoli sarebbe purtroppo allo stesso modo mal visto da Bruxelles e soprattutto dai conti del tesoro nel senso che naturalmente la Spagna deve effettuare dei tagli, deve assolutamente effettuare dei tagli perché ha un debito pubblico insostenibile questo è il principale problema. Ovviamente qualsiasi difficoltà centrale di Madrid è subito sfruttata da quelle che sono poi le formazioni partitiche autonomiste e dai regionalismi perché anche Barcellona ha avuto le sue difficoltà nell'ambito dell'elezione del nuovo presidente della Generalitat ma ad esempio Carl Fusgemon è stato come dire una figura è stato una figura l'ex sindaco di Girona accolto notevolmente a livello popolare proprio perché era segno di un'unità barcellonese molto più consolidata rispetto a quella madrilena del governo centrale quindi ovviamente qui si fa una disquisizione sia mediativa che poi strumentale a quelle che sono poi i fini politici delle stesse realtà regionali che non è da poco allo stesso tempo la comunità valenziana ha un governo di larghissime intese dove come dire pur di avere un governo a dispetto di Madrid si sono messe d'accordo formazioni politiche completamente diverse o comunque di base un accordo tanto per ricollegarci anche a quella che è la politica nazionale un accordo tra compromisse che è un'unione di diverse sinistre a Podemos cosa che molti cercano adesso e sembra che ci siano dei buoni passi avanti a riguardo di riuscire a convertire questa realtà regionale valenziana in una realtà nazionale dove probabilmente a differenza delle ultime elezioni nelle prossime Podemos correrà insieme a Schierda Unida il che sarebbe uno scenario come dire non rilevantissimo nel quadro generale ma sicuramente qualche spostamento dei pezzi della scacchiera sta avvenendo anche perché naturalmente al di là degli arroccamenti ideologici qualche novità qualche dinamismo va apportato perché altrimenti anche l'elettorato come parla la Spagna insomma pensa di essere un po' perso in giro perché chiaramente tutti i cittadini spagnoli saranno nuovamente chiamati alle urne dopo qualche mese è chiaro che il quadro non è ampiamente soddisfacente In fase finale del nostro incontro proviamo un attimo ad ampliare il nostro discorso con temi più generali La Spagna sembrerebbe rappresentare una perfetta cartina di tornasole dell'ingovernabilità comune a molti paesi d'Europa in special modo a quelli del Mediterraneo è questa una generalizzazione errata oppure anche tu rintracci questo filo rosso? Beh diciamo che ecco il tratto che tanto per ricollegarmi a quello che ho detto precedentemente il tratto più distintivo della Spagna è che non ci siano fortissimi populismi intesi in chiave nazionalistica e magari chiusa rispetto alle frontiere rispetto all'immigrazione rispetto appunto a politiche di destra alla fine possiamo definirle proprio di destra se non di destra estrema che stanno un po' dilagando negli altri paesi europei quindi naturalmente dei nazionalismi stanchi e magari ecco partiti che riescono a sfruttare anche la condigenza economica sfavorevole o le incertezze stesse dell'Unione Europea di questo momento naturalmente sembrano non essere presenti in Spagna chiaro che poi l'ingovernabilità sia dovuta anche a un cambio generazionale che riguarda un po' anche altri paesi europei se possiamo appunto citare nuovamente l'Italia o vedere anche un po' la crisi politica del partito socialista in Francia dove Hollande non ha più nemmeno forse non avrebbe andassi oggi alle elezioni la percentuale per arrivare al secondo turno nelle elezioni francesi è chiaro che c'è un quadro comunque di grande cambiamento in questo momento forse anche per le incertezze centrali di Bruxelles e dell'Unione Europea forse perché ci sono tanti malcontenti dove gran parte di questi paesi soprattutto sul bacino del Mediterraneo non sono riusciti a superare la crisi economica si veda la Grecia su tutti chiaramente che viene anche vessata da quella che è la situazione dell'immigrazione nel Mediterraneo è chiaro che poi tutto si fa molto complesso ma più che tracciare un filo rosso come dire entrando nella realtà dei diversi paesi ci sono tante differenze che vanno tenute in considerazione perché è vero che viviamo in una realtà sempre più globalizzata ma alla fine ogni paese veramente è caratterizzato dalla sua storia non vorrei trovarmi a fare di tutta l'erba un fascio Lorenzo guarda siamo giunti al termine del nostro incontro e io ti ringrazio per la tua generosità per averci aiutato a capire meglio le dinamiche interne spagnole ma grazie a voi spero di averti ospite allora subito dopo queste elezioni del 26 giugno se riusciamo a organizzare un collegamento in modo che tu possa raccontarci quello che è accaduto e possiamo analizzare con te i numeri del voto sicuramente sarò ben lieto disponibile sperando che poi ci siano argomenti nuovi da poter trattare lo speriamo anche noi e io salutando te saluto anche tutti i nostri riascoltatori a cui do appuntamento tra 7 giorni per una nuova puntata di notizie geopolitiche salve grazie a tutti i nostri